Angel, stagione 6 a fumetti, mai pubblicata in Italia, ovvero la seconda parte di Angel. Ne parliamo insieme adesso. Wabalabadabdabe, bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica del Buffyverso, bentornati in questa nuova mia impresa in cui cercherò di riassumervi le stagioni a fumetti che ci siamo persi in questi anni, che separano le serie televisive dalla stagione 10 a fumetti di Buffy che dovrebbe uscire il 18 novembre. Ovviamente, visti i tempi che sono strettissimi, non farò a tempo a parlare di tutto prima che esca la decima stagione, però continuate a seguirmi che cercherò di arrivare più o meno a fine novembre parlando almeno anche della stagione 8 e della stagione 9 di Buffy a fumetti. Oggi parliamo della seconda parte della stagione di Angel. Io l'ho voluta dividere in due parti per due ragioni. Una è perché appunto la prima parte è quella che è stata pubblicata da Italy Comics, la seconda parte invece non è mai stata pubblicata da nessuno in Italia e adesso che l'ho letto ho capito anche perché e è comunque molto diversa dalla prima, cioè cambia molto lo stile, cambia proprio il clima che si respira se non siete vampiri, se no non respirate. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che possono stare al sole attraverso un vetro necrotremprato della Wolfram e Art e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo video, di questo riassunto. E se lo condividete perché magari voi l'avete interpretato diversamente, magari voi avete colto delle sfumature che io non ho colto perché non mi è piaciuto molto quello che sto per raccontarvi e quindi mi sono perso delle cose, quindi scrivetemelo qua sotto. Cominciamo. Allora, come sapete, nella prima parte della sesta stagione di Angel, Angel era stato mandato all'inferno e poi ci sono state delle vicissitudini molto interessanti, tra l'altro. Poi la Wolfram e Art ha resettato, diciamo, la caduta all'inferno di Los Angeles proprio perché Angel aveva compiuto la profezia Shanshu, quindi era diventato umano. Tra l'altro mi sono ricordato una cosa, è un po' strano che fosse diventato umano dato che lui aveva firmato con il sangue al finale della quinta stagione di Angel per rinunciare a quella profezia. O forse è proprio per questo che lui, adempiendo la sua profezia e diventando umano, ma avendo firmato con il sangue che avrebbe rinunciato a questa profezia, la Wolfram e Art ha appunto resettato il tempo per fare in modo che Angel tornasse ad essere un vampiro. Quindi Los Angeles non è mai andata all'inferno, Gunn non è mai stato vampirizzato in quel vicolo durante la battaglia con il drago e con tutta l'orda di demoni che era stata mandata sulla terra che non c'è mai stata, ma tutti, tutti a Los Angeles se la ricordano. Quindi in un certo senso si può dire che anche se cronologicamente quello che è successo non si è svolto, è comunque reale, cioè lo abbiamo vissuto avendolo ricordato tutti. Quindi tutti si ricordano anche del fatto che Gunn è stato un vampiro, è stato molto crudele se non folle addirittura e non tutti, soprattutto Connor, si fidano di lui. Gunn invece ci tiene a precisare che seppure tutti quegli avvenimenti sono successi lui in quel momento non aveva un'anima, era un demone che indossava la sua faccia quindi fondamentalmente lui non si sente responsabile di quelle azioni. Però sapete che Gunn è sempre stata una testa molto calda. Una cosa che non ho detto nell'altro video perché non era importante alla fine della conclusione di quella trama ma è importante adesso è che Gwen, Gwen Raiden, la ragazza elettrica, nel finale, diciamo, di stagione di questa prima parte, di questo Angel After the Fall aveva fondamentalmente tradito la gang perché Gunn gli avrebbe promesso quel famoso chip che le permetteva di sfiorare le persone, di toccare le persone. Praticamente la stessa trama che avevamo visto sempre nel finale della quarta stagione con Gwen e Gunn che andavano a recuperare questo oggetto che se non sbaglio funzionava, probabilmente si è rotto o comunque ne aveva bisogno di un altro o aveva bisogno di un oggetto un po' più profondo che funzionasse un po' più a lungo per poter toccare gli esseri umani perché Gwen Raiden ha lo stesso problema di Rogue degli X-Men lei non può generare scariche elettriche a piacimento lei semplicemente non può toccare nessuno deve sempre indossare dei guanti di gomma fondamentalmente perché altrimenti può davvero dare una scarica ad alto voltaggio alle persone rischiando di ucciderle tra l'altro quindi è un po' una condanna questo suo potere e quindi avendo vissuto completamente in questo stato diventata in un certo senso, passatemi il termine, egoista ha pensato alla sua vita e ha fatto un accordo con il Gunn Vampiro per poter avere questo mezzo e in questo modo Connor su tutti si sente molto tradito da Gwen non la considera più la tratta come spazzatura nonostante Gwen cerchi in un certo senso di fare ammenda stando con la squadra e cercando di aiutare a suo modo ma comunque Connor non riesce assolutamente a perdonarla a fidarsi di lei e a trattarla bene fondamentalmente una cosa che mi piace di questa seconda parte di Angel è che comunque si vede una bella squadra una cosa che non mi piace invece di questa seconda parte di Angel è che anche questa seconda parte in un certo senso è divisa in due nonostante dovrebbe essere un unico arco narrativo con un unico Big Bad e in questa seconda parte i personaggi spariscono poi ci sono, poi spariscono, poi vengono nominati non si sa perché non ci sono è tutto buttato un po' a caso mi ha ricordato molto l'ultima stagione di Flash dove in una storia manca un personaggio in un'altra storia c'è davvero sono stato molto deluso e soprattutto sono stato deluso di aver notato che alla fine di questa sesta stagione di Angel non c'è neanche un vaghissimo legame a quello che poi vedremo nell'ottava stagione di Buffy come l'ottava stagione di Buffy invece potrebbe far intendere e poi ovviamente ci arriveremo nel video dedicato o se sapete di cosa sto parlando ci siete già arrivati nella prima parte vediamo che Angel cerca di rifondare la Angel Investigation per aiutare gli indifesi esattamente come faceva nella prima stagione però adesso è a tutti gli effetti una celebrità perché tutti si ricordano che Angel ha salvato Los Angeles dall'inferno e quindi è davvero difficile lavorare con tutte le persone che cercano te o per essere salvati ma anche solo per farsi un selfie perché sei fondamentalmente diventato un VIP della città e quindi è molto difficile in aiuto di Angel in questa nuova Angel Investigation abbiamo di nuovo Kate Lockley che io adoro come personaggio che abbiamo visto solo in un episodio della prima parte che ha aiutato e conosciuto Connor qua invece è fianco a fianco con Angel inizialmente pare che non lavori più per la polizia che abbia abbandonato la polizia e che voglia semplicemente aiutare quindi a tutti gli effetti è una dipendente della Angel Investigation poi però nella seconda parte per qualche ragione pare che sia ancora un poliziotto dice polizia di Los Angeles è in arresto ma quello posso dirlo anch'io ma soprattutto la vediamo al distretto che è con la polizia e non c'è una storia in cui lo spiegano per questo non mi piace molto la seconda parte però vabbè all'inizio c'è appunto Kate Lockley c'è Gwen sempre in questa squadra Kate e Gwen lavorano assieme in un paio di storie è molto interessante Kate è disegnata in modo super figo già è bellissima Kate Lockley nella prima parte dove non diciamo i volti degli attori non sono molto somiglianti Kate Lockley non assomiglia molto però è comunque molto figa per come l'hanno disegnata a livello... in livello generale invece nella seconda parte è più lei quindi è più anche come Miss come vestiario è più la Kate Detective della prima stagione ma ci somiglia di più cioè la sua bellezza è data dal fatto che assomiglia molto di più all'attrice che non nella prima parte nella prima parte è una bionda qualunque potrebbe essere i baffi se uno non stesse molto attento alla squadra si uniscono Dez o Desdemona che dir si voglia che è fondamentalmente una ragazza che può trasformarsi in un giaguaro in un gheppardo scusate se non ricordo l'animale esatto comunque in un grosso felino e c'è una sottotrama che coinvolge appunto questo personaggio di Dez che è davvero molto interessante che fondamentalmente consiste nel fatto che lei sta cercando delle persone che in realtà non sono persone ma sono degli animali che sono stati trasformati in esseri umani che sono tra l'altro causa di moltità feruglia a Los Angeles per cui la Angel Investigation è chiamata a investigare quindi Dez aiuta a capire questa cosa a capire e a far tornare animali le persone che sono gli animali che sono stati trasformati in persone ma che sono molto confusi e quindi continuano a comportarsi come animali in cerca di una sua sorella perduta scopriamo che anche lei e la sorella sono in realtà degli animali però hanno sviluppato una coscienza umana essendo state molto più tempo umane adesso questo incantesimo che le ha rese umane che ha reso umano Dez si sta esaurendo e lei è diciamo coi minuti contati perché il suo obiettivo è restare umana più a lungo possibile per poter trovare la sorella perduta che potrebbe essere imprigionata da qualche parte e essere utilizzata come arma da qualcuno questa trama fantastica a un certo punto non viene sviluppata non viene assolutamente sviluppata il personaggio era anche molto interessante anche visivamente è un'altra presenza femminile nel cast della Angel Investigation che era maschile all'80% nella serie tv qua invece abbiamo quasi una una maggioranza femminile come nella serie tv Buffy ed è anche una presenza un po' diversa nel senso ha il cappello corto moro non può essere scambiata per un altro personaggio come appunto può capitare con Kate che può ricordare Buffy per un occhio inesperto però lo tagliano lo tolgono di mezzo a un certo punto e tolgono di mezzo il personaggio e tolgono di mezzo di conseguenza anche tutta la storia che non viene più sviluppata ed è davvero un peccato nessuno se ne occupa più nessuno se ne preoccupa se ne sbattono tutti le balle a un certo punto dicono ah cavoli Dez è rimasta uccisa oh mannaggia anyway ma perché peccato davvero un peccato un altro personaggio invece che si aggiunge a questa trama è James che pare essere niente popò di meno che un vero e proprio angelo o un arcangelo non lo so un angelo molto antico di 5.000 anni anche qui c'è una trama molto interessante che poi viene totalmente stravolta nella nel finale nella diciamo nella seconda parte di questa seconda parte probabilmente hanno cambiato sceneggiatori non lo so so che hanno mandato tutto in vacca e quella che poteva essere una trama davvero interessante è stata sporcata e resa ai miei occhi davvero inutile e poco interessante vado a spiegare cosa è successo questo James dice di essere un angelo un angelo che però ha perso la fiducia dei suoi colleghi angeli perché lui è un po' più libero di loro che invece nonostante siano anche loro sulla terra continuano a ragionare come angeli quindi un po' privi del loro libero arbitrio anzi hanno una fede cieca che li porta ad ammazzare tutti i demoni anche quelli che non sono davvero malvagi per esempio un Lorna come è successo nella puntata della seconda stagione dove la vecchia gang di Gunn faceva questa cosa fondamentalmente ma peggio ancora pare che questi angeli stiano uccidendo anche esseri umani in vista delle loro azioni future la vecchia storia se tornassimo indietro nel tempo estrangolassimo Hitler quando è nella culla fondamentalmente loro stanno facendo questo per impedire delle conseguenze più gravi in futuro e chi stanno uccidendo stanno uccidendo le persone gli artefici di queste conseguenze più gravi in favore di persone più innocenti però non funziona così nel senso che per noi esseri mortali che viviamo il tempo in maniera lineare compreso Angel non ci è permesso cioè non è giusto condannare una persona per le intenzioni né elogiarla sia chiaro finché quella persona non commette il reato il peccato non è giusto condannarla non è giusto neanche aspettare sulla bambagia che le cose accadano e che ci scappi il morto per poi risolvere la situazione sia chiaro bisognerebbe intraprendere un percorso educativo in modo che le cose non accadano una volta che sia il sentore che possano accadere questa è una cosa che ci metto io a scanso di equivoci c'è questa battaglia che vede da un lato Angel e James e dall'altro lato i suoi vecchi colleghi angeli ed è molto interessante che Angel combatta finalmente a fianco di un vero e proprio angelo come ci è arrivato un angelo sulla terra lo spiegano con appunto l'operazione di Wolfram e Art di mandare Los Angeles all'inferno mandando Los Angeles all'inferno le forze dell'essere hanno mandato sulla terra delle schiere di angeli per aiutare un po' a fare un po' di pulizia una volta che la Wolfram e Art ha riportato indietro il tempo questi angeli sono rimasti qua mentre James era qui da molto più tempo e questa è tutta la trama iniziale che coinvolge anche Dez e il discorso che ho detto prima sugli animali trasformati in uomini nella seconda parte di questa seconda parte pare che James non sia un angelo e fin qua ci può stare che ci sia un colpo di scena introdotto anche da un nuovo personaggio anche lì abbastanza interessante ma non quanto Dez che è un'osservatrice un'ex osservatrice perché non c'è più il consiglio degli osservatori che fondamentalmente chiede proprio di essere assunta all'Angel Investigation perché sa che manca una parte diciamo di cervello manca una parte conoscitiva no? manca manca questa parte il ruolo che era di Wesley e di Fred non c'è più e quindi si fa assumere diciamo l'Angel Investigation è un personaggio relativamente interessante anche lì hanno l'hanno rappresentato come una donna inglese se non sbaglio dalla folta chioma rossa che però ricorda Willow anche lì io l'avrei disegnata diversamente perché dato che già sono disegni che non non sono delle fotografie come per esempio nella stagione 8 di Buffy dove ogni personaggio è facilmente riconoscibile quanto meno avrei dato un aspetto differente con un aspetto differente bastava farla riccia e rossa e non ci avrebbe ricordato Willow per esempio questo personaggio scopre appunto non gli torna qualcosa sul fatto che James sia un angelo e James appena viene scoperto invece di negare dà in escandescenza lancia dalla finestra questa tizia combatte con Angel gli mozza le mani e i piedi e se ne va e da lì si scopre che in realtà James non è un angelo un arcangelo ma è una specie di divinità di un'altra dimensione mi è venuto in mente Glory della quinta stagione di Buffy un big bag divino fondamentalmente e ci può stare questa cosa ma non ci può stare per se cioè ci sarebbe potuta stare questa cosa ma non ci può stare perché noi abbiamo visto gli altri angeli che nessuno ha mai smentito che fossero angeli che hanno riconosciuto James come angelo non ha senso questa cosa a meno che non mi vai a spiegare che questa persona si è fatta credere un angelo anche dagli altri angeli fin dalla notte dei tempi ma mi sembra molto assurdo che un angelo scambi un essere di un'altra dimensione per un suo simile non ha molto senso quantomeno non l'hanno fatto in modo che abbia senso perché nessuno lo ha spiegato è come se si fossero proprio dimenticati la prima macro trama per questa nuova trama non mi è piaciuta assolutamente ho letto fino alla fine sperando di trovare delle spiegazioni e non ho trovato assolutamente niente quindi James è una specie di divinità di un'altra dimensione che vuole usare la terra come fabbrica di mostri che riesce a creare scusate in utilizzando gli esseri umani come incubatrici quindi riesce in qualche modo a usare gli esseri umani per procreare dei demoni con il suo tocco non lo so non so come si fa non c'è dato saperlo e questi demoni poi penso li rispedisca appunto nella sua dimensione di provenienza per venderli fondamentalmente per in un certo senso per commerciare i demoni oltre al fatto che lascia tantissimi demoni anche qua sulla terra tant'è che noi vediamo il futuro perché vediamo il futuro perché la Wolfram Heart del futuro preleva Angel dal presente per fargli combattere James nel futuro in questo futuro distopico dove James ha già vinto quindi vediamo due battaglie la battaglia nel presente dove Angel non c'è perché è stato prelevato per il futuro c'è Connor c'è Gunn che comunque inizia a voler far secco Connor poi vi spiego perché c'è questa osservatrice Kate è sparita Spike è sparito vabbè lui lo dice che se ne va ok che va a trovare la sua strada poi lo vedremo nell'ottava stagione di Buffy e anche Gwen è sparita Illyria pure se n'è andata ma perché era diventata molto attaccata a Spike quindi andandosene Spike se n'è andata anche Illyria nella prima parte però la vediamo nel futuro proprio perché Illyria ha questo potere di giocare con il tempo e quindi la vediamo nel futuro con Angel però abbiamo questo doppio fronte di battaglia nel presente e nel futuro in cui Angel e Illyria combattono James nel futuro e Connor e Gunn e l'osservatrice combattono James nel presente ma non ha senso cioè in tutto questo poi Angel viene rispedito nel presente da Illyria e aiuta la gang a combattere James che viene finalmente sconfitto da Connor che in tutto questo secondo arco narrativo ha sviluppato un potere molto simile a quello che era di Cordelia nella quarta stagione se non sbaglio quella quando ci sono tutti questi demoni che sembrano dei vermettini trasparenti che ti si infilano dentro e ti seccano dall'interno perché bevono tutta l'acqua che hai nel corpo e quando sono andati su Cordelia Cordelia che era diventata in parte demone li ha fondamentalmente con una luce divina li ha bruciati tutti ecco Connor ha un potere molto simile se viene fatto sanguinare perché? perché Connor nonostante sia il figlio impossibile di due vampiri ma sia umano sta diventando qualcosa di più resterà sempre all'aspetto umano ma pare che potrebbe diventare anche lui potente quanto queste divinità però anche questa cosa non viene mai sviluppata semplicemente utilizzerà questi poteri per sconfiggere James in un modo che viene spiegato off screen quindi che non vediamo e anche questo mi ha fatto incazzare da morire perché davvero era davvero interessante come modo per sconfiggere James ma ce lo raccontano dopo che è successo perché noi vediamo solo un lampo di luce vabbè e il finale di questa seconda parte si conclude con Angel che appunto torna alla Angel Investigation che non è più nell'Iperion perché appunto Connor quando ha preso le redini ha cambiato anche sede ha trovato una sede molto carina molto simile è un mix tra gli uffici della Wolfram e Arta e gli uffici della prima stagione di Angel mi è piaciuta questa nuova location utilizzata pochissimo chiaramente e Angel torna alla Angel Investigation e niente finisce così che lui continua a proteggere Los Angeles Connor troverà la sua strada cercherà di capire cosa diventerà a Gunn e nella squadra Kate si è in polizia non si sa dove Spike non si sa dove Illyria non si sa dove Gwen nessuno ha sviluppato la trama di Desdemona così e soprattutto non si sa perché succederà quello che succederà nella stagione 8 di Buffy quindi io devo scusarmi con Italy Comics che gli ho tirato un sacco di insulti perché ha pubblicato solo i primi 17 numeri di Angel che comunque concludono una prima parte e non ha mai pubblicato il resto e io ero appunto convinto che mi mancasse qualcosa di essenziale per arrivare a leggere l'ottava stagione di Buffy e invece devo dire che probabilmente Italy Comics ha letto i fumetti di Angel e ha deciso di pubblicare solo quello che era davvero bello per poter concludere la quinta stagione cliffhanger della serie tv quindi grazie Italy Comics che hai pubblicato solo i fumetti belli peccato perché questa seconda trama poteva essere una figata enorme e l'hanno trattata davvero davvero con i piedi mi scuso se mi sono prolungato tanto ma dovevo spiegare cose che erano un po' difficili nonostante questo video fondamentalmente sia inutile ai fini della decima stagione di Buffy però ho detto che l'avrei fatto e quindi l'ho fatto così per dare un po' della vostra curiosità ringrazio ancora Buffy Italian Universe che trovate su Instagram che mi ha mi ha concesso di leggere questi fumetti quindi se siete interessati eventualmente sentite Buffy Italian Universe e potete leggere totalmente quello che vi ho appena spiegato io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video di leggere e con l'imbuto di leggere e con l'imbuto di leggere e con l'imbuto